Ciao ragazzi, volevo ricordarvi un appuntamento importante. Per tutti gli amanti dello sport, domenica 25 settembre c'è la terza Marotta Mondolfo Run. È un'occasione per correre e camminare dal mare alle colline del nostro bellissimo territorio. Io non sarò presente perché sarò impegnato al mondiale di pallavolo in Olanda, però a tutti gli amanti dello sport volevo ricordare questa occasione e opportunità per stare insieme e per fare sport. Ciao a tutti! E se l'invito arriva direttamente da un CT campione del mondo, come non accettarlo? Da diversi giorni infatti sul sito del comune di Mondolfo e sui social della SD Marotta Mondolfo Run, circola un video in cui Davide Mazzanti in persona invita alla terza edizione della gara podistica organizzata dall'omonima società, in programma domenica 25 settembre. La Marotta Mondolfo Run 2022, che sarà valida come quinta tappa del CSI Ircuito, la competizione podistica ideata dal CSI Fano, di fatto è una sorta di quattro eventi in uno. Sono previsti infatti mini circuiti riservati a bambini e ragazzi e due camminate, una di 8 chilometri con percorso lineare sul lungomare e una di 9,6 chilometri con percorso collinare. Il clou resta ovviamente la corsa per i senior, che quest'anno sarà di 11 chilometri anziché 13,5 come nelle precedenti edizioni, questo perché organizzatori, comune e prefettura hanno deciso di cambiare il tracciato per lasciare liberi gli accessi e i seggi, essendo domenica giornata di elezioni. Il ritrovo per tutte le gare è alle 8 nel piazzale antistante La Bocciofila di Marotta, dove i runner taglieranno poi il traguardo dopo aver attraversato le strade di campagna che collegano Marotta a Mondolfo e un tratto di lungomare. Per info e iscrizioni www.marottamondolforan.it